La ceramica è un materiale affascinante. Da un lato è fragile, dall'altro resiste a carichi estremamente elevati. Esiste un altro tipo di ceramica. È una ceramica tecnica ed è una parte importante della candela d'accensione. In realtà è una meraviglia della tecnologia. La ceramica della candela d'accensione è molto più piccola in termini di superficie rispetto ad una tazza eppure riuscirebbe a sostenere dieci volte il mio peso. È importante perché deve resistere agli elevati picchi di pressione nella camera di combustione. Allo stesso tempo, la ceramica deve soddisfare altre due cose importanti. Una è l'isolamento elettrico, cioè deve garantire che la corrente segue esattamente il percorso desiderato attraverso l'interno della candela d'accensione. Deve poi contribuire a dissipare il calore dalla camera di combustione al blocco motore, ovvero garantire che la candela d'accensione non si surriscaldi troppo in corrispondenza degli elettrodi. Ecco perché Bosch ha sviluppato una ceramica speciale per le sue candele d'accensione. L'ingrediente principale è l'ossido di alluminio, usato insieme a molti altri componenti. La ricetta esatta è un segreto ben custodito. Samira, perché ci sono delle nervature nella ceramica della candela d'accensione? È il segno di riconoscimento di Bosch o solo estetica? No, le nervature hanno una funzione importante. Sono una barriera per la corrente elettrica, affinché non si verifichino i flash-over della testa. La corrente elettrica è in realtà molto pigra e cerca sempre il percorso con minor resistenza e normalmente viaggia attraverso l'interno della candela d'accensione. Se c'è un deposito di umidità o sporco, ad esempio a causa di una perdita dalla candela d'accensione o dalla cuffia della bobina, può essere come un invito alla corrente a prendere un percorso diverso. Viene attratta dall'umidità, salta lungo l'esterno della ceramica e scarica sulla testa del cilindro. La ceramica della candela d'accensione è stata dotata di nervature proprio per rendere più lungo e quindi meno attraente il percorso della corrente all'esterno. E poi la ceramica è rivestita con uno smalto, in modo che sulla superficie possano aderire meno sporco e umidità possibile. Oltre alle candele d'accensione rigate, esistono anche le candele d'accensione lisce, quelle per i moderni motori a iniezione di benzina, perché non abbiamo le nervature qui. In questi motori ci sono diverse condizioni che sono state fondamentali per questa nuova forma di candela d'accensione in ceramica. Da una parte c'è meno rischio di umidità e sporco, perché la candela d'accensione è protetta meglio. D'altra parte abbiamo meno spazio e inoltre una tensione di accensione più elevata, con un aumento del rischio di scariche elettriche della testa. Qui vediamo la lunghezza specificata di una particolare candela d'accensione con nervature. Nello spazio più ristretto di un motore di questo tipo, la candela d'accensione deve essere più sottile e non ammette più nervature. La ceramica deve essere più lunga per evitare il rischio maggiore di scariche della testa. Pertanto, la forma del collegamento terminale deve essere modificata. Il terminale SAE diventa il più piccolo terminale a coppa. La lunghezza totale della candela d'accensione ora è di nuovo adatta. Da quando sono disponibili queste candele? Questo sviluppo proviene originariamente dal Motorsport. Il terminale a tazza utilizzato oggi nelle candele d'accensione moderne è un ulteriore sviluppo per le autovetture, entrato nella produzione in serie per il primo equipaggiamento nel 2010. Bosch ha sviluppato il connettore a coppa e ancora oggi ne detiene il brevetto. Ottimo! E l'officina può scegliere che tipo di candela d'accensione preferisce, ad esempio liscia o regata, con terminale a tazza o SAE? No, esiste un tipo di candela d'accensione specifico per ogni vettura, perché è studiata appositamente per un particolare motore. Ok, questo spiega anche perché il programma candela d'accensione Bosch è così diversificato. Grazie per aver guardato questo video. Non dimenticare di mettere mi piace e visitare il nostro sito web al link qui in basso.